Ciao, buona domenica, bentornato allo sovigliante canale Anneso Superstar, questa è una canzone capolavoro, io la adoro. Ora, Danzo, se sai che c'è tipo un jackpot di quanto? 11 miliardi di dollari di Super Enalotto, per cui Filippo è andato a giocare a Super Enalotto e abbiamo fatto tre! Dai, abbiamo vinto 30 euro e 74.33! E la rigiochiamo di nuovo? Ma io non la rigiocherei sinceramente, andiamo a cena fuori con questi 30 euro. Prendiamo 30 e giochiamo un euro. Io andiamo a cena fuori, non... Ma è la stessa cosa, ma è che io li gioco la spazia. Comunque, compa, c'è un culo del ripeto, però... Veramente non avevo mai vinto! Ma è figata, abbiamo vinto Super Enalotto, lo possiamo dire che l'abbiamo vinto Super Enalotto, certo! Ah, era 94 milioni? E 300 mila euro! Ma già con 300 mila euro, tipo, io mi arriverei a sentire male con 300 mila euro! Direi! Ma proprio, sono i 300 mila euro! Cucciocci risolverebbero tanti di quei problemi, 300 mila euro! Esistono 300 mila euro, li fanno ancora 300 mila euro! Mamma mia! Principessa! Principessa! Filippo, sembri una sciantosa! Lo sai che sei bella! Ecco! Miau! E tu, cane! Anzi, alza, alza! Ora puoi abbassare, ok! Filippo è riuscito a prendere due piccini come a Fava, due cose che non mi piacciono! Il metal è Adele! Ma a me fa morire da ridere lui! Ah, di come si chiama questo canale? Si chiama Frog Leap! Frog Leap! Frog! Frog Leap! 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 Scritto perché non è capito niente! Frog! Leap! Leap! Ah, ok! Frog Leap! Ah, è quello del coniglio! Esatto! Bravo! Allora, è un mezzo schizzato norvegese! Bravo! 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 Famiglia! Tutti i musicisti! Ancora la bambina è in erbe! E quella con la bambina dietro! Praticamente lui fa i video, si riprende mentre suona e c'è la bambina dietro tipo con la chitarra di Barbie o con quella chitarra rosa che fa finta di suonare! È carino! Comunque si è riuscito però a prendere due cose che non mi piacciono a metterle insieme! Ma lui è troppo forte! Tra l'altro non le canzone belle! Io non dico il contrario ma... Ma che angoscia! Mentre continuiamo questa meravigliosa canzone... Ecco, ora c'è quando... Le venti di metal fanno... Devo raccontare la mia esperienza di ieri! Perché io ieri praticamente... Non ho registrato neanche un minuto di vlog... Perché io ieri... E vabbè metto il link nel box info di questo canale! Ok, perfetto! Se mi lasci per favore un file note sulla scrivania mi fanno fortesia! Un file note! Un post-it! Un post-it! Che era un modo carino per dire! Un post-it sulla scrivania! Allora... Ieri per la prima volta in my life... E credo pure l'ultima... Almeno che non mi venga il trip... Perché io mi conosco e poi... Potrei diventare maniacale! Sono andata alla riunione di condominio! Allora... Ragazzi... Io non lo so se qualcuno di voi è andata mai alla riunione di condominio! È pirandelliana! Non... Cioè... L'assurdo! Eh... Io gli ho suggerito... Che comunque qualcosa su una riunione di condominio ci dovrebbe essere! Se non sbaglio è di qualche autore campano! Eh... Però c'è qualcosa sulla riunione di condominio! Di letteratura intende Filippo? Sì! La dobbiamo cercare! Se la troviamo entro domenica... Lasciamo... Non è difficile trovarla! Comunque... Allora... Parliamone! Cioè... È... Surreale! Intanto... C'era... Quello della... Polemica! Cioè... Questo qua... Per amore di fare polemica! Secondo me se lo inventavano! Perché... C'erano state un paio di occasioni in cui... Io mi sono... Ce l'ho guardata tipo... Ma stai dicendo? È una persona grande... Grande sono... 60 anni... Ci sono stati un paio di momenti in cui ho detto... No! Ma queste veramente se le stai inventando! Per amore di fare polemica! Per dire... Non è così! Non è capito perché... Da anni vado io e non sei mai andata tu? Ma allora... Io ieri ti ho detto... Allora... Durante queste anni di condomia... A un certo punto... Io veramente sono un po' di... Me ne volevo andare! Io me ne vado! Dopo quattro ore! Me ne volevo andare! No! Perché praticamente... Ho cominciato alle 5... Io tra l'altro avevo... Del lavoro da finire... Che ho pensato... Come se nessuno lavorasse alle 5... Sì ma infatti... Ho detto... Vabbè alle 5... Perché lui era al lavoro... Quindi ho detto... Vabbè scendo io... E... Ho detto... Vabbè... Se mezzo... Finisce... Sì... Ok... Alle 8... Meno 20... Ancora... Il primo punto... All'ordine del giorno... Non lo avevamo discusso... Perché c'era questo signore... Che faceva un filo di polemica... Che ogni parola... Aveva qualche cosa da ridire... Pirandelliano... Non sto scherzando... Comunque... Allora... E... È stata... Un'esperienza... Cioè... L'ho chiamato... E gli ho detto... Fini... Tu... Per dissuadermi... Ad andare alla riunione di condominio... Avresti dovuto utilizzare... Due parole... Chiave... Per me... E mi avresti fermata subito... Una è perdita... All'altra è tempo... Se tu mi avessi detto... Perché tu non ricordavi... È una perdita di tempo... Io non ci sarei andata... Tu non ricordi... Quando... La riunione era... In precedenza... Alle... Alle 9... Alle 21... Alle 21... Io ancora... All'una di notte ero giù... Io mi andavo a curicare... Infatti... E gli scusevano due punti... Dalle 21... All'una di notte... Mamma mia... Che pesantezza... Ma poi... Caspita... Ma farlo parlare... Cioè... Fai una domanda... Fallo rispondere... È giusto... Non fare una domanda... E quello dice... Allora... Eh... Ma sì... Ma ha detto solo allora quello... Insomma... No... Che stress sta cosa... Però l'ho trovata... A me veniva un po' da ridere... Da solo un paio di momenti... In cui mi veniva da ridere... Tipo però... No... Mamma mia... Dai... Rilassati... Camomilliamoci qua... Altro che andiamo a prendere i caffè... La camomilla qui... La riunione di condominio comunque è un top della mia vita... Certo... Credo che quella della settimana prossima straordinaria... Ci andrò Filippo... Ci andrò... Guarda... Tu sei un po' masochista... Un po' ferire... Che potrei stupirti... Che forse a me ieri era il trip del condominio... Guarda... Che io... Devo dire la mia... Ieri ho votato Filippo... Ero d'accordo e in disaccordo... E ho votato... Ho alzato la mano... È la bella... Ovviamente io ero sempre alla parte Dario e Calogero... Che ero messa in mezzo a Dario e Calogero... Sono amici di Filippo... Io... Dario e Calogero diciamo una cosa... E pure io... Beh... Sono pure due professionisti... Sono due persone che sanno quello che dicono... Sanno quello che dicono... Sanno quello che dicono... No... In particolar modo Calogero... Sapeva quello che diceva... E parlavano insieme di cause... E quindi... Io... Io voto Calogero... Se Calogero si candida... Io lo vado a votare... E' verlo... E' vermo anno... Oggi è stata una giornata particolare, oggi è giovedì, ci sono stati 45 gradi, 47, dipende Nel momento della giornata è fatto molto caldo, intanto mi hanno chiesto come stavo, come andava, io ovviamente tutto a posto, guarda, non ero in quelle zone di Palermo, io vivo esattamente da un'altra parte, però ti devo dire che Palermo oggi sono un pochettino martoriata Tra questa temperatura altissima, i gradi percepiti erano più di 50, è stato terribile oggi, guarda, è stata una tortura oggi Inoltre ti aggiungo pure che ci sono stati incendi nelle zone di Mitrofe Palermo Purtroppo, quando l'ho visto mi ha pianto un po' il quadri Devo dire la verità, mi ha fatto pure uno strano effetto, oggi pomeriggio poi sono ripassata con Filippo davanti e c'era Monte Pellegrino, che è la montagna di Palermo E' ancora in fiamme, oggi l'aria era particolarmente ovattata, ed ero ovattata, uno per lo scirocco, due per questo caldo spaventoso che c'è stato oggi Tre perché c'erano le montagne che prendevano fuoco e quindi il fumo delle montagne che arrivano in città non è la prima volta che succede Purtroppo oggi è andata così, oggi Palermo è stata un po' martoriata, ti devo dire la verità E non mi piace, anche perché io sono una che cade veramente in polemiche ma Come può accadere che Tanti punti che circondino una città prendano fuoco per autocombustione contemporaneamente Purtroppo, poi a me vengono questi dubbi, perché ci sono stati, è stata chiusa la Palermo Trapani e la Palermo Messina Che sono una che arriva a destra e una che arriva a sinistra, Palermo è messa per lungo così, quindi Capito? E niente, brutta giornata oggi, veramente brutta, era un po' apocalittica la situazione Tanto il chiamato Filippo, Filippo ritardava, dovevo andare da una parte e ritardava Io mi sono preoccupata, l'ho chiamata, infatti lui non ci ha abituato Io ho detto dove sei? E si è messa a ridere, mi ha detto che mi chiedi dove sono? Io ho detto sì perché sono preoccupata No, sto tornando tutto a posto Oggi è andata così, brutta giornata, molto Allora, vivendo noi in città, noi non viviamo fuori Palermo o in periferia, noi viviamo in pienissima città Dalla città non si è capito molto bene quello che ieri stava succedendo Sto parlando della questione degli incendi e via rispondendo Dai noi non si capiva assolutamente Chiamiamoli il roghi Chiamiamoli il roghi perché in realtà era un incendio Oggi ci siamo dovuti allontanare da Palermo Abbiamo dovuto fare un tratto di autostrada Siamo rimasti sconvolti da quello che abbiamo visto In realtà avevamo cominciato a avere condizione quando ieri sera abbiamo cominciato a guardare il telegiornale Vi ho detto ma che sta succedendo Poi delle persone vicine a Filippo mandavano in tempo reale delle notizie Tra cui a Termini Merese L'ospedale evacuato Persone nei vidi in spiaggia Che sono rimaste bloccate perché il fuoco è arrivato al mare Quello che ti voglio dire è la seconda cosa Una ragazza... che c'è? Aprisci? Che c'è? Vedi la videocamera e si blocca Perché non parli in camera? No? E mi striscio tutta Allora Una ragazza ha commentato una fotografia mia su Instagram che ho messo ieri sera Perché io ieri sera abbiamo cominciato a capire quello che stava succedendo Perché avevo visto il telegiornale perché noi da dove eravamo ieri non lo capivamo cosa stesse succedendo Abbiamo cominciato ad avere condizione con il telegiornale Una ragazza ha scritto Io mi vergogno... quando succedono queste cose mi vergogno di essere siciliana Ha scritto un bel commento Non mi ricordo le parole esatte ma il succo era quello Allora io sinceramente la capisco Non la critico affatto La capisco perché io fino a un po' di tempo fa la pensavo come lei Quando succedono queste cose io mi vergognavo Oggi io ho cambiato totalmente il punto di vista Non solo mi vergogno ma ne vado sempre più fiera Perché io, mio marito, questa ragazza di Stocia non ricordo è un nick Ho il telefono tra l'altro scarico Priscilla, Royce Priscilla, i nostri genitori, i tuoi genitori, tutti quanti noi Noi siamo quella parte della Sicilia che è ben più ampia di quelli che poi purtroppo fanno di queste scempiaggini Siamo quelli che lavoriamo e che proviamo a renderlo un posto migliore O un posto di bibbia O un posto... Un posto Ne abbiamo parlato ampiamente sia io che Filippo nel video Palermo è un carciofo Io non voglio replicare Io non mi vergogno di essere siciliana ma io ne vado molto fiera di esserlo Soltanto che alla luce di questi eventi Alla luce di questi eventi io non provo... Il mio sentimento non è vergogno Il mio sentimento è arrabbiatura Incazzatura Potente Veramente potente Mi auguro che chi abbia fatto quello che ha fatto Che tra chi ci sia qualcuno che provi un minimo di rimorso E che non possa dormire la notte E che... E che paghi Che si vada a costituire e che paghi E che trascini con sé tutti gli altri Che hanno inquinato una giornata come quella di ieri Che già di per sé per Palermo non sarebbe stata facile Perché la temperatura era spaventosamente alta E gli è venuta fatta fatta Perché oggi passava una legge Insomma... Non siamo noi Che a dover provare vergogna Sono loro che si devono vergognare Su questo per quanto mi riguarda non ci piace Che a comunque orbene adesso io mi vado a pettinare a sistemare questi capelli che sono una brutta stregaccia questo vlog si conclude un pochettino prima perché stiamo per uscire perché abbiamo una festa di compleanno alle 6 del pomeriggio quindi stiamo scendendo un pochettino prima oggi che è sabato niente io ho smorzato un attimino una tensione tra virgolette del discorso un po' brutto di Palermo che brucia perché è giusto che una debba reagire anche con le fesserie secondo me, questo è il mio punto di vista che può essere contestato però è il mio punto di vista allora ci vediamo settimana prossima con dei nuovi video vediamo che cosa mi posso inventare anche se ho un paio di appunti perché mi sono venute le idee stavolta ho chiuso l'occhio completamente e mi sono venute un paio di idee lo sai che cosa mi è venuta in mente di rifare solo che l'ho fatto troppo di recente gli hanno tipo 10 cose su di me perché mi sono venute in mente cose e ho detto io lo potevo dire lo potevo dire perché stavolta ho avuto una brutta nottaccia e ho notato che non faccio alcune cose dimmi se ti va eventualmente lo faccio lo faccio domani mattina cioè o domani pomeriggio che è di domenica solitamente sono un po' più libera comunque dai ci vediamo durante la settimana con dei nuovi video casa superstar con un video fresco fresco super light perché ricominciamo con le ricette light e sto sperimentando delle cose e domenica prossima con un nuovo vlog spero di averti tenuto compagnia durante la colazione della domenica perché solitamente leggo faccio colazione con te oppure ci siamo presi insieme al caffè ciao e che le stelle siano con voi a domenica prossima grazie a tutti